Ben ritrovati a vera mattina, gli smartphone hanno completato la rivoluzione digitale passando da strumento di comunicazione a strumento in molti casi di informazione e anche di denuncia sociale. Pensate alla rivolta iraniana, alla primavera araba, fatti narrati, documentati attraverso lo schermo dei nostri cellulari. E allora oggi noi in compagnia di Enrico Coppo, la giornalista con una pluriennale esperienza nel mondo della televisione, proviamo a spiegare un po' i meccanismi, come poter attraverso pochi semplici strumenti in uso alla maggior parte di noi realizzare anche dei contributi video di alta qualità e di divulgazione, di informazione, perché di questo che parliamo. Intanto buongiorno. Buongiorno Jessica, buongiorno a tutti gli amici di Vera TV. Allora, dicevo, dalla tua pluriennale esperienza, insomma tu mi raccontavi iniziato come operatore, poi sei giornalista, quindi voglio dire, è un mondo che conosci molto bene. È nato il progetto Video Marketing Mojoma, giusto? Sì, Video Marketing e Video Giornalismo e Comunicazione Video, insomma è tutto basato sullo smartphone e l'acronimo deriva da Mobile Journalist Marketing. In realtà io parlo più, diciamo generalmente, di comunicazione fatta attraverso lo smartphone. È una grande occasione che abbiamo, è uno strumento democratico, mi piace definirlo, perché non ha barriere per utilizzarlo. Non ha barriere di prezzo, perché ormai un buon smartphone, uno smartphone che possa fare praticamente tutto, dai 300 euro, forse anche qualcosa in meno in su, è possibile acquistarlo. E non ha neanche barriere di conoscenza, perché? Perché gli automatismi rendono facilissimo l'utilizzo anche da parte di persone che non hanno conoscenze reali, tecniche. Allora, qui noi abbiamo allestito, come dire, una sorta di strumenti utili, no? Per realizzare, ad esempio, cosa? E diciamo, nel videogiornalismo non tutto. Chiaramente forse l'unico limite reale che ha lo smartphone è quello dello zoom, cioè ha delle ottiche diverse, ma chiaramente con una telecamera professionale non sussiste proprio il confronto. Però ha la praticità di poterlo portare in tutti i luoghi, quindi spesso, inizialmente, era utilizzato in territori di guerra. Nico Piro, giornalista di Rai 3, è direttore anche di Mojo, del festival italiano corrispondente da Kabul, lo ha utilizzato molte volte in abbinata a una telecamera professionale o esclusivamente come produzione. Ma, appunto, dicevo, la facilità di utilizzo rende tutti noi capaci di realizzare video e anche di montarli, perché nello smartphone non c'è solo la telecamera, c'è anche un montaggio, c'è anche praticamente un'antenna per fare dirette. E voi sapete bene quanto sia difficile invece farle professionalmente, perché occorre o uno zainetto o una parabola da puntare. Adesso invece con quattro click qualunque persona e anche persone dell'altro millennio, come me, riescono a fare con quattro click andare in diretta. Chiaramente questo attraverso i social che ci hanno trasformato tutti in dei media. Dei media per comunicare quello che vogliamo, per questo dicevo democratico. Il payoff del mio progetto dice proprio lo studio televisivo in tasca. Questo perché quando accadeva una cosa, il primo pensiero era, chiamiamo la televisione, a supportare questa notizia di denuncia o di sensibilizzazione su un tema particolare. Oggi siamo capaci di farlo da soli e magari di fornire contenuti alla televisione. Noi stessi molto spesso anche operiamo quando ci troviamo, anche perché devo dire che, poi in base a quella che è l'esperienza di ciascuno, però la telecamera tende sempre a mettere un po' di soggezione. Diversamente dallo smartphone, che è uno strumento forse più informale. Questa sua informalità lo rende meno ostico alle persone quando ci si avvicina, insomma. Sicuramente. La generazione Z nasce già con lo smartphone, ma anche il nonno ha lo smartphone in tasca. Quindi quando si vede un giornalista, un comunicatore, intervistarlo con uno smartphone, ha chiaramente un approccio normale, tranquillo. Più empatico. Sicuramente. Con una telecamera la soggezione, il sentirsi un pochino sotto esame è sicuramente più forte. Cosa abbiamo qui? Allora, qui ho portato le cose che mi piacciono di più, cioè gli oggetti che utilizzo e che... Che sono peraltro facilmente anche reperibili, no? Molto economici. Molto economici. Ad esempio c'è questo doppio radiomicrofono. Sono due radiomicrofoni che confluiscono in un unico ricevitore e quindi entra tutto nello smartphone con un cavo a un prezzo di 80 euro, poco più di 80 euro. Perché dico il prezzo? Per far capire la facilità anche di acquisto. Non ha bisogno di sottaggio perché sono già settati tutti, basta accenderli e funzionano perfettamente. Poi ho portato questo doppio anello a ring che lo vediamo magari nei tutorial di tutto. Sì esatto, di make up, sì esatto. Ma invece io lo consiglierei a tutti quelli che si... Che si interfacciano con... Che si interfacciano con le televisioni perché adesso con il lockdown si è visto di tutto, no? Inquadrature dal basso, narici, soffitti, controluce. Credo che oggi sia arrivato proprio il momento di fare formazione. Una formazione perché il video è entrato nelle nostre vite non soltanto per comunicare ma anche per imparare o insegnare. Sì, pensiamo ai colloqui di lavoro, alla didattica a distanza. Esattamente. Lo smart working, le videoconference, no? Esattamente. Allora, dobbiamo farle un pochino meglio. Questo qui credo che costi 20 euro ma consente di fare una luce diffusa da tutti e due i lati del soggetto, di farla... Qual è l'errore più grave che si fa di solito, al di là dell'inquadratura dal basso e dall'alto? A livello tecnico, proprio di luci? Sulle luci sì, credo quello. Fare lo sfondo più luminoso del viso della persona. E diventiamo incandescenti? No, magari il viso è più scuro e lo sfondo magari è un muro bianco e allora basterebbe una gelatina di 5 euro per colorarlo con una lampada e magari cambiarlo, non so, a seconda della trasmissione che si collega con noi. Parlo di, non so, i virologi adesso hanno avuto, no? Ampia visibilità. Bisognerebbe formare tutti. Tutti non ci riusciremo, però la cosa bella è che la formazione su YouTube è gratuita. Ci sono tanti corsi in vendita, ma ci sono tanti e tantissimi contenuti gratuiti. Vogliamo vedere qualche servizio realizzato attraverso questo particolare strumento, ovvero lo smartphone. Abbiamo realizzato anche delle macchie, no? Con le immagini che abbiamo trovato appunto su YouTube di un rifugio che avete realizzato attraverso dei fondi e quindi documentato e raccontato, evidentemente. Questo sull'isola di Tenerife, sì, molto volentieri. Eccolo qui. Il rifugio si chiama K9 e abbiamo realizzato una serata per una raccolta fondi. Questo è il video di apertura della serata. Poi all'interno c'erano cantanti, comici. Chiaramente è tutto realizzato con lo smartphone. Tutto con lo smartphone. Sia qui, io credo sia bellissima questa soggettiva del cane. È voluta, evidentemente. Non è un'inquadratura dal basso verso l'alto, causuale, ma è per far vedere la prospettiva di sguardo del cane. Esattamente. Qui ho voluto simulare proprio gli occhi del cane e lei mi ha messo il guinzaglio al polso. Praticamente mi tirava come se fosse un cane. Sì. Tutto il montaggio è anche stato fatto su smartphone. Incredibile. Quindi tutto quello che facciamo passa unicamente per lo smartphone. Non ha bisogno né di un computer né di strumenti professionali. Ecco, c'è un altro video realizzato. Questa volta, insomma, la sfida è stata ancora maggiore perché ci si trovava in un ambiente ad alta tecnologia, no? Immagino, come il Telescopio Nazionale, evidentemente. Sì. Ecco, bellissime, suggestive. Questa è l'isola di La Palma, ultimamente nota per l'eruzione del vulcano, dove Gianni Mainella, un caro amico italiano, che in realtà vive a Tenerife, però lavora qui nel telescopio, ce l'ha mostrato in tutti i suoi aspetti e lì è stata la cosa bellissima perché c'è questo specchio enorme che sta a una distanza, ad un'altezza abbastanza proibitiva. Lì, semplicemente con un bastone da selfie e alzando, quindi senza nessun strumento particolare, semplicemente il braccio e un bastone da selfie, sono riuscito a fare inquadrature che altrimenti con una telecamera professionale sarebbe stata ben più complicata. Molto più complicata. Venivano decisamente meglio, ma per riuscire a fare qualche secondo lo smartphone è stato più che sufficiente. Dicevamo, smartphone come strumento anche di denuncia sociale, citavo qualche fatto che abbiamo vissuto nella nostra storia recente. I limiti in tutto questo, cioè quando lei prima diceva è uno strumento sicuramente democratico perché dà l'opportunità a tutti di raccontare un qualcosa ma sappiamo benissimo questa professione è soggetta anche, come dire, giustamente a un suo rigore, a una sua dentologia. Certo. Bisogna formare le persone anche su questo. Certo, il discorso privacy è importantissimo e chiaramente farlo comprendere bene a tutti e non è un obiettivo facile. Potremmo schematizzarlo un pochino, però dobbiamo sapere che quello che facciamo magari deve passare prima per il vaglio, prima di pubblicarlo, se sono immagini complicate, si conviene prima consultarsi con le forze di polizia o con una struttura giornalistica, una testata giornalistica, magari fornirle. Insomma, il fatto di postarle direttamente a volte può essere rischioso. Però io ho avuto il piacere di intervistare Francesco Emilio Borrelli, il consigliere campano, che fa una battaglia con il suo smartphone e nessuno di questi accessori, solo ed unicamente con lo smartphone, spesso in diretta, riesce a denunciare delle piccole e grandi cose. Situazioni in fragranza, tra l'altro. Spesso sì, è stato minacciato da molti camorristi e lo ha usato anche come strumento di difesa, cioè inquadrando. Cioè, fino a quando non accade nulla, lui inquadra a terra, fa vedere il problema, ma non va sulle persone, perché, tra l'altro, è un giornalista francesco, quindi conosce molto bene la deontologia. Quando lo attaccano, non solo risponde agli attacchi in diretta, sui commenti, ma quando lo attaccano, per salvaguardare la propria incolumità, alza lo smartphone e gli dice guarda che sono in diretta, guarda che sono in diretta. Più volte mi ha detto... Informare, certo, anche la persona inquadrata che ti sto inquadrando. Esattamente, è che sferma il suo attacco, la sua minaccia, la sua aggressione verbale e non solo verbale. Tutte queste cose, nonostante, come dire, l'utilizzo che tutti noi comunemente conosciamo, però, alle volte, i nostri smartphone, come dire, hanno delle impostazioni, delle chiavi di lettura che ai più sfuggono, no? Quindi, per sfruttare al meglio le capacità di un cellulare, lei ha pensato ad un workshop, no? Per far conoscere meglio lo strumento e indirizzarlo anche nel modo corretto, evidentemente. Assolutamente sì. Il workshop è un'occasione di formazione modulare, quindi ha una durata minima di otto ore, ma ha una possibilità di essere sviluppato fino a 30 o più ore e quindi approfondendo. Quello che deve essere chiaro è che per usare questo linguaggio bisogna conoscere un pochino le riprese, quindi essere un operatore, un montatore video, anche un grafico perché si impaginano titoli, bisogna scegliere musiche, quindi potrebbe sembrare molto complesso. Invece, tutte queste cose, e io dico c'è una conoscenza inconscia da parte delle persone perché in realtà vediamo video da quando siamo nati, quindi anche noi... Abbiamo assimilato insomma il nostro background. Se chiediamo a una persona mi fai una panoramica orizzontale dall'alto da sinistra a destra, magari la persona rimane allibita o un attimo spazzata. Non sa cosa le sta chiedendo. Poi gli chiediamo mi inquadri il gatto che entra da qui e va a mangiare lì? E lui fa esattamente una panoramica orizzontale dall'alto. E qui stiamo vedendo le inquadrature ad esempio verticale, orizzontale. Questo è uno dei segreti. Qui c'è un mondo, no? Perché c'è il verticale. E proprio possiamo notare in questo caso, perché stiamo andando in orizzontale, la regia ha creato un effetto tra il video e cioè ha raddoppiato il video sfocandolo e usandolo come sfondo. Invece c'è quel televisore sopra che è un desiro della Samsung, diciamolo, perché sono i primi. Non voglio fare pubblicità, ma per dire, perché è il primo televisore che si gira. Quindi, che cosa consente questo? Che fin quando vediamo contenuti televisivi possiamo utilizzarlo in orizzontale, ma immaginate questo in uno showroom, ma anche in una pizzeria, passare ai contenuti Instagram o dei social o di TikTok in cinque secondi e poi tornare, non so, alla partita o all'informazione con l'orizzontale. Cioè ci sono delle inquadrature che si prestano per l'orizzontale, altre invece che vanno visualizzate in verticale. E soprattutto delle piattaforme, perché TikTok è solo verticale, quindi si può utilizzare anche, cioè sfruttare delle riprese orizzontali, ad esempio questo che vediamo sono tre immagini orizzontali che però vanno a formare un verticale. Quindi la sperimentazione proprio, cioè non ci sono esperti di immagini verticali, ci stiamo approcciando tutti a questo nuovo linguaggio. Prima non esisteva, è tutto da sperimentare. La generazione Z è su TikTok, cioè le case editrici adesso hanno scoperto che riescono a vendere e tanto su quel target di utenti con TikTok. BookTok è l'hashtag che spinge questi libri e sono brevissimi video, magari fanno vedere soltanto la copertina, ma alzano le vendite dei libri, quindi hanno una reale efficacia poi sulla vendita. non è finita qui la strumentazione perché abbiamo un braccio che ci consente in questo modo di stabilizzare evidentemente l'inquadratura e il video, perché è attaccato non so se riuscite a vederlo al tavolo. E di fare una verticale con una facilità estrema, questa è una la verticale dall'alto è un'inquadratura molto difficile per farla con altri strumenti e invece con un attimo passare a un'inquadratura magari dal basso e quindi passare dal basso o dall'alto o alla verticale con tre secondi. Ecco, anche in regia stanno cercando di venirci dietro per il passaggio. Scusate. Ma no, solo lo sono bravissimi assolutamente. Oppure fare un semplice faretto a led alimentato a batteria o batterie stilo o un power bank e poi abbiamo questo che io sono proprio innamorato di questo carrello motorizzato ovvero e quindi immaginate una pizzeria o una guardate qui e questo adesso durerà poco cosa riesce a fare ma addirittura siccome ha le ruote che possono essere anche piegate devi riesce a fare un carrello circolare e magari girare intorno a un bicchiere ora pensate se non so un pizzaiolo deve imparare a fare una carrellata circolare intorno alla sua pizza basta comprare questo e anche questo costa 80 euro ma non li vendo io certo lo sto facendo è solo per far capire quanto sia difficile adesso ho stretto troppo quella ruota e quindi lui spinge il manichino che si chiama Jack si chiama Jack anche un nome e vive di vita propria insomma in mezzo a tutti questi meravigliosi e l'ultimo e l'ultimo è questo qui che io immagino conoscete tutti conosciate tutti meglio che è l'osmo e che con un doppio clic passa tranquillamente da verticale a orizzontale questo lo spengo perché altrimenti altrimenti continua a girare continuerà opla è caduto Jack a fare disastri allora e questo è un gimbal e quindi è un diciamo stabilizzatore nasce come stabilizzatore cioè il suo primo obiettivo è non far venire le immagini tremanti e sappiamo questo essere come dire una delle tante problematiche di chi maneggia telecamere anche importanti no? professionali esattamente ma ha addirittura anche questo un automatismo un target e quindi io adesso lo muovo e lui mi tiene inquadrato ora mi ha perso perché sono andato in controluce no? certo non so se riuscite a seguirlo io sono curiosissima di provare a fare un video adesso lo sperimentiamo perché sono innamorata chiaramente per deformazione professionale di tutti questi oggetti quindi sono veramente curiosa 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 caro Enrico conosci i tempi televisivi meglio di me assolutamente sì e quindi sai che purtroppo anche la televisione ha le sue regole io sono molto contenta di averti avuto qui oggi ti ringrazio anche perché crediamo insomma che sia utile mettere le persone a conoscenza di quelli che sono degli strumenti che alle volte sottovalutiamo ma che invece in molti casi possono essere importanti e che in altrettanti casi ci salvano anche la vita e noi che ci occupiamo di violenza raccontiamo anche molto spesso di quando tante volte violenze e quant'altro siano state scongiurate grazie all'utilizzo degli smartphone un'opportunità che qualche anno fa non c'era assolutamente sì e teniamolo sempre a mente uno strumento per difenderci e per sensibilizzare sui temi che sono vicini a noi grazie grazie mille a Enrico Coppola giornalista ed esperto di video marketing grazie per essere stato con noi grazie noi ci fermiamo qui vera mattina termina qui vi auguriamo un felice weekend un buon sabato a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti